I grandi sostenitori della strategia di politica economica Da pompiere, no? No, sì, mi hanno diventato, io ho invitato, di solito alla fine del pompiere quando l'incendio divampa magari qualche volta finisce anche male Non siamo molto d'accordo sul fatto di andare a prendere i soldi ancora una volta dai giochi Cerco di essere più che pompiere, pontiere, cioè di costruire ponti anche quando sembra che i ponti crollino ma credo che sono anche con noi Abbiamo bisogno del riconoscimento delle differenze reciproche che ci sono su alcuni ponti ma dentro a Milano dove si sta concludendo positivamente questa esperienza del Sbog che è la partita non troppabilità per le sue osservazioni poi sentiremo da Lorenzo Guerini una visione più complessa meno decisiva dal punto di vista dei conti dello Stato ma giornalisticamente fanno più titoli e quindi poi alla fine davanti al bar si parla sui mille o tre mila euro di cash poi sui castelli che devono pagare o non pagare e quindi